La stessa cosa rischia di accadere con ILVA. Guardate, in nessun pianeta, di nessuna galassia conosciuta e sconosciuta, un investitore che vince una gara e mette 4,2 miliardi sul piatto per risanare il più grande complesso industriale del Sud, viene accolto a suon di ricorsi e piani assurdi del tipo vogliamo progressivamente chiudere. In nessuna galassia conosciuta. Ma di che parliamo? Ma qualcuno mi vuole spiegare come si chiude progressivamente l'acciaieria più grande d'Europa? Ma lo sappiamo com'è fatta un'acciaieria? E con quali soldi, con quali costi per tutta l'industria italiana? Con quali soluzioni per i 20 mila lavoratori tra diretti e indotto? Negoziare si può e si deve. Il Governo lo ha fatto duramente sul piano ambientale, da 1,2 miliardi di euro più un miliardo di bonifiche emesse dal Governo, sul riconoscimento ai lavoratori di tutti i diritti economici e legali pregressi, portando il numero di occupati garantiti da 8.500 dell'offerta a 10.000, varando strumenti per garantire tutti, dicasi a tutti i lavoratori un contratto a tempo indeterminato e un incentivo volontario all'esodo che è composto da 5 anni di cassa integrazione e 100.000 euro. Non credo che abbia precedenti per dimensione. I sindacati vogliono di più e stanno negoziando in queste ore. Ci mancherebbe, non è solo un loro diritto, è un loro dovere. E il Governo, tramite l'amministrazione straordinaria, è disponibile a mettere sul piatto ulteriori risorse per chiudere nelle prossime ore. Ma attenzione, si faccia presto. Ilva finirà la cassa nel mese di luglio e ricominciare tutto da capo per seguire chi propone soluzioni tecnologiche irrealizzabili rischia questa volta di provocare una chiusura tutt'altro che progressiva. Non esiste al mondo un impianto di dimensione di Ilva che va a gas, neanche dei paesi produttori di gas. Il più grande in Europa è Dimitale e produce meno di un decimo dell'attuale produzione di Taranto. Per favore, lasciamo i deliri dei populisti alle vongole, anzi in questi casi direi alle cozze pelose per essere più precisi fuori dai tavoli sindacali.